Ciao ragazzi, continuiamo a desturizzare il casco. Allora, se siamo arrivati qui, creiamo un altro livello. Selezioniamo sempre l'articolare. Ok, controllo T. Poi, selezione, sposta. Ok, invio. Selezioniamo, sposta, controllo T. Ok. E qui ci facciamo un altro colore. Seleziona sempre il rettangolare. Seleziona rettangolare. Ok. Andiamo a vedere. Colore. E qui. Allora. E qui. e un posto qua no contro facciamo un'altra copia selezionare da volare segnala qua con conti seleziona sposta selezionare adesso non ce ne vediamo più allora facciamo ctrl a più z allora seleziona ctrl d visto che poi non ce la facciamo è un po' più corto ok ctrl t selezionare la sposta ok ok io adesso lo sposto contro d si così e andiamo a creare un altro colore selezionare la sposta vediamo un altro colore no un altro colore ecco vediamo un po' un altro colore vediamo un altro colore un altro colore un po' bello un altro colore un po' bello ed un altro colore ecco una un altro colore c'è eccco ecco 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 la un po con il sacchiano sembra più sembrato carico però un po meno carico vediamo a si si ok ctrl D selezioniamo ctrl S salviamo andiamo a vedere cosa abbiamo fatto in my update è venuto carino è venuto carino è venuto carino ok ok direi che ci possiamo stare così direi che ci vediamo al prossimo e continuiamo ciao a tutti